Direttore, si celebra quest'anno la sedicesima edizione della Borsa di Studio Guido Paolucci, nonché la quattordicesima del premio Giovani Talenti. Si ritorna in presenza, un motivo sicuramente di soddisfazione per la vostra azienda che è sponsor principale di questa iniziativa. Assolutamente sì, siamo davvero molto contenti di poter rivedere i volti dei ragazzi durante questa manifestazione. L'anno scorso è stato complicato, ma comunque abbiamo mantenuto anche la quindicesima edizione. È un momento di gioia, è un momento in cui Riviera Banca davvero afferma in maniera importante quella che è la sua mission, quella che è la sua vocazione. Ci sono oggi un centinaio di ragazzi impegnati e bravi che sono risultati migliori nel loro percorso scolastico. E quindi una banca di credito cooperativo non può, come la nostra, non può non essere vicino ai giovani, perché sono il nostro futuro. Ma per loro il futuro è anche oggi, quindi l'impegno che mettono durante l'anno e il riconoscimento che la nostra banca mi sembra doveroso, che la nostra banca fa appunto mi sembra doveroso, anche perché Riviera Banca affianca la sua tradizionale attività bancaria, un'attività sociale, culturale, di prevenzione e cura della salute, di valorizzazione appunto dei giovani, di sostegno al territorio. È un evento importante, è una manifestazione importante, prima di tutto perché ricorda il professore Guido Paolucci, che è stato un medico, un professore in oncologia pediatrica, quindi ha dato, diciamo così, la sua vita per gli altri e credo che sia questa una cosa molto importante. Dall'altra parte si premiano i ragazzi, i ragazzi che hanno svolto un percorso di studio a livello di scuola superiore e a livello anche universitario, quindi credo che anche questo sia un messaggio importante, che è quello appunto che abbiamo bisogno di persone che si impegnano, di persone che studino, di persone che raggiungano dei livelli importanti per la nostra società. E terzo, ultimo ma non da ultimo, la Riviera Banca, che è sempre molto attenta in questi settori, che è quello appunto dell'istruzione delle giovani generazioni, fa tanto anche nel sociale e nella cultura e di questo noi ne siamo profondamente grati, quindi ringrazio di cuore il Presidente Fausto Caldari e tutto il Consiglio di Amministrazione. Arianna, come impiegherai questa borsa di studio che Riviera Bianca ti ha concesso? Penso che la impiegherò per iniziare questo nuovo futuro da adulta e questa nuova vita comunque autonoma rispetto anche alla mia famiglia e spero anche di proseguire comunque lo studio in questo ambito ora che sono specializzanda sempre in pediatria e sempre nello stesso ospedale in cui ho condotto la tesi.